Dato che ha un ruolo fondamentale all'interno della comunicazione, ci sembrava importante che tutta la Toscana conoscesse l'organismo, conoscesse noi componenti che siamo in carica dallo scorso giugno e che abbiamo già fatto molte cose e tante abbiamo in ponte, le stiamo organizzando. Ieri c'è stata una bellissima presentazione, una bellissima conversazione con 300 studenti di licei fiorentini, abbiamo parlato di hate speech, di violenza di genere. Insomma, tante sono le iniziative e avevamo bisogno che tutte le province toscane conoscessero noi e le nostre iniziative. Il Corecom Tour arriva ad Arezzo, quella retina per il Comitato regionale per le comunicazioni e la settima tappa in Toscana. Un giro in tutte le province per ricordare le importanti funzioni del Comitato, dalla vigilanza nel settore radiotelevisivo, a breve anche con il controllo del rispetto della parcondicio nelle elezioni, al patentino digitale per circa 400 studenti all'anno, fino all'organismo di conciliazione delle controversie tra cittadini e gestori telefonici o piattaforme web e pay tv. Noi incentiviamo le buone pratiche di comunicazione con vari bandi che facciamo ogni anno, ci occupiamo della media education, dell'educazione digitale, soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie, con un progetto, il patentino digitale, che è un progetto di respiro nazionale. L'altra grande questione su cui il Corecom è impegnato è tutto il tema delle controversie telefoniche, perché il Corecom svolge la funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie e i gestori telefonici. In questo senso svolgiamo una funzione a titolo gratuito, arrivano ogni anno alcune migliaia di istanze, abbiamo superato negli anni oltre 100.000 istanze e l'83% trova una soluzione nella conciliazione. Abbiamo riscontrato che con la piattaforma digitale che c'è da sei anni il concilia web sono addirittura diminuite un po' le domande, cioè le domande che vanno avanti nella conciliazione, perché spesso vengono concluse in sede di prima istanza. Io chiedo sempre, anche quando vado nelle altre città, di istituire, magari presso gli urpe dei comuni o comunque in una sede istituzionale, dei punti d'appoggio per le persone che non hanno in casa la possibilità di poter inoltrare le richieste. Il Consiglio regionale guarda al Corecom come un'interfaccia anche tra l'istituzione e i cittadini e quindi benissimo che oggi siamo qui ad Arezzo, una terra che come è stato detto è da me molto conosciuta e una sala, questa dei grandi, che è altrettanto conosciuta e mi fa piacere ovviamente essere qui in questa occasione. Il Corecom è di tutti, poi noi abbiamo il piacere che il Presidente è un aretino, Meacci, io come consigliere di opposizione ho votato a favore tutte le cose che presenta Meacci perché le trovo di un grande valore, come trovo di grande valore questa iniziativa di diffondere i lavori che svolge e le funzioni che può svolgere il Corecom in tutta la regione toscana. In Commissione Quinta dove faccio parte, Commissione Istruzione e Formazione l'abbiamo audito varie volte e sempre con soddisfazione i propri progetti. E ad Arezzo l'importante tappa anche al Museo dei mezzi di comunicazione. Io coltivo da anni un rapporto speciale con il Museo dei mezzi della comunicazione che ricordo essere uno dei pochi musei di rilevanza regionale della provincia di Arezzo. Anni fa è stata fatta una brillante mostra all'interno del Palazzo del Pegaso per far conoscere questa attività. La regione è stata sensibile, gli va riconosciuto al Presidente Gianni di essere intervenuto post i danni che sono stati fatti nell'alluvione di luglio. C'erano stati dei movimenti, dei contatti anche attraverso la mia figura e quando si cerca di fare bene nell'interesse del territorio siamo tutti contenti.